Io faccio tardi! Questo. No. Sì, quello giusto. Sì. Ecco questo. Mi basta, por favor. Ah! Ah! In Russia, Stato Uniti, Giappone e Corea del Sud, nessun caso. Finora in Italia, dove il Ministero della Salute ha... Tu non vai! Ho un appuntamento con una ragazza. Tu non vai via da nessuna parte! No! No! Mamma ti prego, lašami uscire in me con questa ragazza. No! Questa è la mia prima volta e lei è unica che mi ha detto sì. Tu sei ancora piccolo! Io ho 42 anni! Ed oggi io non parlo più con te! Paola! Sì mamma, mi hai chiamato? Allora, tu non puoi uscire perché in giro c'è un virus molto pericoloso. Si chiama coronavirus, incurabile! Se io non esco con questa ragazza, io non mi sposo mai! Rimasta ultima! Per me basta mamma! Mamma, sei sicura? Ancora un ritocco e sei pronto! Pronto! Mamma, sei sicura che sono protetto? Sicurissima! Bene! Io vado! Ciao! Ciao! Buona serata! Grazie! Saluto la tua ragazza! Ok! Un po' scomodo camminare con un tacco a pelo! Eh, però ti protegge! Lei mi ha lo sfarto! Dai, racconta tutto! Lei... Lei mi ha mandato a far cuore! E non mi aver visto! Ma trovi meglio! Mamma?